I just had to let you know you're fine Hands on your body, I don't wanna waste your time Feels like forever, even if forever's tonight Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono... Danil E oggi siamo su Candy Crush Friends Ragazzi, questo gioco in pochissimo tempo, cioè dopo due giorni che è uscito è già fatto 5 milioni download, vi rendete conto? Io non sono tantissimo per questi giochi qua ragazzi, però l'ho provato, devo dire che merita veramente tantissimo, veramente molto bello Ci ho giocato un po' tipo ieri sera, così a random, ho fatto tipo 8 livelli dopo all'ottavo, cazzo si ricorda più Non riuscivo più a liberare il cazzo di polpi E' affanculo vai polpi Apriamo questa scatola, qualcosa abbiamo trovato? I lecca lecca Delle energie, dei caramelle, cosa sono? Va bene, non ho assolutamente idea, eh Ok, abbiamo riscosso i primi giornalieri Ok, no, ero arrivato al livello 12 Ok ragazzi, proviamo con... Facciamo i livelli un po' indietro perché non voglio sembrare stupido Perché io non sono stupido Perché mi piace ragazzi? Perché ci sono molte più animazioni e mi sembra più facile Infatti al livello 12 mi sono bloccato Dobbiamo eliminare, cioè eliminare, salvare 7 animali Che cazzo faccio io a salvare 7 animali? Ok, questo facciamo ragazzi E' un momento in cui l'intelligenza va sfruttata al massimo Quella poca che c'è Allora, di solito la maggior parte dei casi raga Io muovo le caramelle un po' così alla cazzo Beh, non è che adesso sto facendo chissà cosa Perché se siete intelligenti anche voi e ci giocate da un po' la Candy Crush Potete ben notare che io faccio letteralmente cagare Allora questa qua spruzza i secchi d'acqua e mi lancia i pesci Grazie, grazie per i tuoi pesci Ok, cazzo sta succedendo ragazzi Raga, 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 raga Ok, grazie per i tuoi pesci ma Non penso che succeda qualcosa Ok, li manca lì, ok Ci hanno liberato tutto, ok Hai liberato tutti gli animali Un friteco e un... E' un pinguino Zee ragazzi, zee Quanto siamo aritmetici Io ietino Allora Il livello 12, quello che non sono mai riuscito Bella ieti Ehi, uela, fratello Allora Dobbiamo Liberare 11 animali Ma come faccio che faccio già fatica a liberarne 7 Allora Ok, lì abbiamo distrutto un qualcosa E devo dire che è fantastico Ok Stai facendo tutto tu Tipo Grazie, lancia anche le palle di neve Ok, intanto lì abbiamo liberato qualcosa Delicious Tipo se lanceresti più palle di neve mi faresti un favore così almeno distruggi tutte quelle brutte cose che ci sono Allora Intanto vedo anche i pesci che vanno così a run 4 su 11 Wow, sono bravissimo Allora Qua cosa bisogna fare Allora, lì non faccio niente Ok, qua Poi Aspettate la mia intelligenza Questo Bravo, tipo Qua io non farei O faccio qualcosa Non so cosa fare Allora Allora Vediamo qua ragazzi se c'ho qualcosa No, qua non ho assolutamente niente Che posso fare Quindi Utilizziamo questo Questo E poi E poi non lo Ah, c'è la mega caramella Così distruggiamo un po' tutto Abbiamo liberato un animaletto Però facendo così non riusciamo Letteralmente a prendere niente Ok Prendiamo Seguiamo il consiglio del nostro Yeti ragazzi Così almeno riusciamo a liberare Lui lancia la palla di neve sempre Va più che bene Va più che bene Ok Sì però se fai esplodere tutto Ti ringrazierai anche Tasty Tasty Ok Non caga assolutamente un cazzo Qua Dai che devo liberarmelo quel pinguino Dai No Non cambia un cazzo Sette su undici Comunque Non è Pochissimo Eh Prendolo abbiamo ancora eliminato Otto Nove No Dai Non fa lo stronzo Eh Questo Questo Non riesco a fare Raga No Non riesco Eh ma Tua mamma Dai 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 Sempre Ok Dieci Me ne manca uno Me ne manca uno Dove cazzo è sto Ah è qua È qua È qua Me lo sento che è qua Però non c'è possibilità Non c'è possibilità di 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 Però se io Se io faccio questo Aspettate la mia intelligenza Tipo potevi anche lanciare da un'altra Ok Quello Facciamo così Ho eliminato Oh 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 Eh quanto cazzo sono bravo Ho liberato tutti gli animali raga Che bello Tre stelle Tre stelle che non ci sono riuscito Non ci sono riuscito Al dodicesimo livello Al dodicesimo livello Bravo Tipo balla insieme a me Ok Bravo 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 Sono contento Livello 12 superato Abbiamo superato un gufo Bello Grazie grazie gufo Ciao eh Pure qua l'unicorno Fantastico Dobbiamo fare il Tredicesimo livello Però lo facciamo Al prossimo episodio Ragazzi Termino qua questo video Cazzo vuoi Giochiamo con Il Con lo Yeti ragazzi Questo video di Candy Crush Friends Perché è una cosa veramente Fantastica Qua dovremmo liberare i polpi Però i polpi Io non Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi e commentate Spero che vi siete divertiti Con il nostro bellissimo Yeti ragazzi Che se lo schiaccio Fa Ok Vi mettete un like Con il video con tutti i vostri amici E noi ci vediamo al prossimo video Bella a tutti ragazzi Ciaoана Matta mamma 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 Matta Mamma 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 Podcast Grazie a tutti